L'iniziativa Corun Zero nasce prima che il Movimento 5 Stelle fosse in Parlamento, quindi prima che avessimo la possibilità di incidere direttamente sui regolamenti parlamentari. È un'iniziativa di comitato di cittadini, quindi assolutamente slegata dal Movimento in sé. Noi, molti gruppi del Movimento, l'hanno appoggiata e sostenuta perché è in linea con i nostri principi. Una volta che siamo dentro ci siamo resi conto che alcune cose di quelle proposte potrebbero già essere introdotte nei regolamenti per rendere subito operative, ma sono alcune credo marginali rispetto al totale, come per esempio la discussione delle obbligatorie delle leggi, ne aveva parlato Riccardo, l'iniziativa popolare, può essere subito introdotta un regolamento del Senato che a te sembra più facile di una legge costituzionale, ti posso dire che forse è più difficile, è più facile fare una legge costituzionale che non un regolamento del Senato e della Camera. E ti spiego subito il motivo, perché la legge costituzionale è pubblica e il dibattito è pubblico, sul regolamento del Senato avviene tutto in un ambito molto ma molto alto nel senso di lontano dalla base.